I territori chiedono maggiore sicurezza e ordine pubblico e lo Stato risponde rimpolpando l'organico della Polizia di Stato. Dal prossimo 7 ottobre la provincia di Ragusa avrà in dotazione 14 unità supplementari inserite stabilmente nell'organico della Polizia di Stato. Una bella notizia sul fronte dell'ordine pubblico e della sicurezza, che giunge direttamente da Roma, dal sottosegretario all'interno Filippo Bubbico. In discrezioni danno certo l'arrivo di ben 14 poliziotte secondo quanto stabilito nella ripartizione delle destinazioni subito dopo il completamento dei corsi di addestramento professionali. Della cosa è stato subito informato il prefetto di Ragusa, l'annunziato verde che non ha potuto fare a meno di apprendere con soddisfazione l'attenzione mostrata dal Governo nazionale nei confronti dell'area eblea, ritenendo essenziale che si sappia su quale forse poter contare per garantire servizi sempre più efficaci sul territorio. Nei mesi addietro vari allarmi sono stati lanciati soprattutto per quanto concerne alcune aree rurali del territorio ebleo. Pertanto l'arrivo di nuove unità delle forze dell'ordine è la migliore risposta che si poteva dare, replicando in positivo anche alle sollecitazioni che in tale direzione erano arrivate la scorsa estate dalla SILP CGL. Avere l'opportunità di poter contare su un organico potenziato di 14 unità a fronte del fatto che la realtà ebrea scontava già uno sottodimensionamento non da poco non sarà certo i rimedi ai tutti i mali, ma aiuta sicuramente ad affrontare una situazione alquanto delicata sul versante della sicurezza.